Sono Leonardo Francalanci, sono il direttore della fattoria San Michela Torri. Io sono nato e cresciuto in città a Firenze. I miei nonni erano invece mezzadri e negli anni 60 vennero via dalla campagna per arrivare in città. Io ero molto legato a mio nonno e lui mi raccontava le storie, le avventure di un mondo che per me mi sembrava lontano e bellissimo. Era il mondo dell'agricoltura, della terra, della natura. E io quando mi raccontava queste cose non solo me le immaginavo ma sentivo gli odori, sentivo la temperatura, il calore, il freddo. Era come se anch'io fossi stato lì insieme a lui. E questo credo che abbia segnato in maniera proprio profonda il mio amore per la natura e la mia passione per questo lavoro. Lavorare in mezzo alla natura è fondamentale. Io se tutti i giorni non calpesto un po' di terra non sto bene, non capisco come possano le persone vivere sempre in città e stare sempre in ufficio. Mi piace tanto lavorare a San Michele a Torri e lavorare con Paolo Nocentini che è il proprietario attuale. È una persona che mi ha sempre stimolato in questi anni, di grande intelligenza e io ho cercato sempre di dare il massimo e il meglio di me. Ecco.